Urca bello a tutti raga, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Ci ritroviamo qui per andare a completare la missione di svelare il cerchio della tempesta futuro Di praticamente ricevere la previsione del tempo da un carattere E' un incarico, se non erro, il quarto incarico su 5 di Furia raga E dunque, semplicemente ora vi mostro tutte le location dove voi potete andare Dunque, come potete vedere abbiamo appunto qui, esattamente al centro della mappa, Torin Esattamente in questa posizione Qui ragazzi, a fortezza furtiva c'è esattamente Furia Che è proprio il tizio che ci dà proprio l'incarico per appunto completarlo Possiamo andare anche da lui, volendo, da lui stesso che ci dà l'incarico C'è un altro ragazzi che si trova esattamente a suo borghi scalcinati Che è praticamente, se non erro, Pitstop, esattamente qui raga E infine dovrebbe esserci JB Chimpansky Che si trova esattamente in questa location esatta qua Dove c'è appunto il robo dell'elicottero Dunque raga, in questa location voi potete trovare gli NPC che vi svelano le cerchie della tempesta futuro Quindi tutte le location, qui al centro, qui a fortezza Qui a sopporchi, praticamente nel limite di sopporchi All'inizio barra, vabbè insomma qua Dove c'è praticamente il negozietto con la vending machine che vende le robe E qui dove c'è JB Chimpansky Quindi raga decidete voi dove andare Appunto basterà semplicemente fare così Svela il cerchio della tempesta futuro Facciamo così e come potete vedere Ci esce proprio il cerchio della tempesta futuro E la missione viene automaticamente completata Tanta roba ragazzi Noi quindi ci salutiamo tra pochissimo in live su Death by Daylight Un saluto ragazzi Ci vediamo Ciao a tutti boys Ciao a tutti